prendiamo queste immagini da internet da pinterest immagine di questo crisi eccetera un'immagine un po brutta sgranata ma noi la useremo solo come spunto come idea useremo i tre colori primari già magente giallo continuiamo cominciamo con il cian come cian ho deciso di usare il blu di prussia ora non è che dobbiamo avere una precisione stratosferica mettiamo più o meno il cian dove vediamo che è blu e verde e anche anche se vediamo noi vedremo delle parti in cui il blu è più forte e dove invece più chiaro e quindi giocheremo questo cian anche noi con una sorta di chiaro scuro quindi alcuni punti dovremo schiarire il colore logicamente lo schiariremo con l'acqua essendo un colore ad acquerello per quanto riguarda il giallo useremo un giallo di cadmio medio e per il rosso un rosso carminio quando pensiamo che più o meno abbiamo terminato con il cian attaccheremo con il giallo quindi più che altro questo giallo lo passeremo quasi dappertutto perché in effetti di cian proprio di cian puro nella pittura in questa pittura non c'è quasi niente giusto qualche ombra la maggior parte sono verdi e quindi noi questi verdi li otterremo sovrapponendo il giallo sopra il cian per un difetto della ripresa che c'era un filtro strano della macchina digitale questo giallo sembra un marrone però state tranquilli è giallo infatti adesso finisce questa ripresa e possiamo vedere possiamo vedere insomma che non è marrone ma è giallo chiedo scusa per questo adesso è tempo di passare al rosso carminio non è che in questo scorcio si vedono delle parti molto rosse tuttavia il rosso c'è dappertutto quasi dappertutto ovviamente dove non lo vediamo dove vediamo verde ce n'è poco però c'è sempre un pochino perché in una pittura è difficile che non siano presenti presenti tutti e tre i colori logicamente in un verde di rosso ce ne sarà poco ma c'è e infatti dobbiamo rafforzare un po' le ombre e aumentare un po' il rosso il rosso manca ecco adesso va bene c'è un rosso sufficiente e quindi abbiamo raggiunto un'armonia e un equilibrio